Porca vacca, Riccardo E' morto Porca c'è anche questi tanker qua Perfetto 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 Non c'è quella sensazione in cui... Non lo so... Se veramente sopprattato di lui ci vorresti dare a testato un'occhiare... Ma... Purtroppo hai vinto tutte le blu... ... 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 I don't think you'd appreciate it. Aw, done. Ok. Spare soldi. Spare soldi. Spare soldi.. Sì, 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 sì. Siamo super bravissimi, fino a che il cuore ha esplodito? Algo così. Allora, ora qui da qualche parte. Eccolo. Questo è un fucile sul Kino, ragazzi. Versione Steam, bacchissi, possiamo così dire. A proposito, nel frattempo facciamo una cosa. Weapon. Eccolo. C'è commentato un po' il file di arrete. Eccolo. 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 Sì, non è vero. Ehm, salve! la faccia di Zorro muori 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 a win he was trying to kill me do you ever wonder about the fact that you're the hero of all the stories you tell I mean come on how likely is it that you are always sorry I gotta take this please return here with all haste jealous men are invading the village I believe they're looking for chemical your assistance would be appreciated damn I'll be right there we have to get back there now no shit lady teleport us already okay just let me get a lock on oh that's weird I can't I can't feel the statues in town it's like they're not there doesn't matter just get us anywhere close okay nearest spot is um it's gonna be a hike out of the possible lady out of the possible siamo sono arrivato quasi dove ero arrivato io dopo c'è una serie di anche le missioni secondarie da fare c'è un boss che è abbastanza dal futuro da fare vabbè ragazzi deluto ciò è proprio questa cassa bene ragazzi ci salutiamo ci vediamo nella prossima puntata e vedremo che cosa sta accadendo qua a casa ciao a tutti